La riconsegna al Comune di Teramo del parcheggio di Piazza Dante, comprensivo sia del piano a raso che di quelli interrati, apre ad una nuova fase nella gestione dell'area e dell'infrastruttura. La nuova situazione, la cui soluzione era attesa da anni dopo le continue proroghe senza scadenza affidate ai gestori, è stato possibile grazie all'ordinanza che segue la sentenza di primo grado con il quale il Tribunale di Teramo ha sancito la risoluzione della Convenzione con la società che ha gestito il parcheggio fino ad oggi. Accogliendo la richiesta del Comune. Oggi la piazza torna alla città, il piano a raso sarà gratuito fino al 7 gennaio. Abbiamo deciso di gestire questa fase lasciando lo spazio libero al parcheggio, anche in questa fase di festività natalizie, ma anche per utilizzare questo tempo per mettere a sistema il piano a raso con il sistema della sosta e dall'8 gennaio ci consentirà di mettere in atto una serie di azioni di rimodulazione complessiva. Il piano invece sotterraneo, i piani sotterranei verranno gestiti dalla Teramo Ambiente, quindi una gestione comunale indiretta attraverso la società in house. è più complessa perché ci sono tutta una serie di situazioni anche tecnologiche che devono essere affrontate e risolte. I dipendenti operatori della società precedente a loro cercheremo di garantire una tutela e una continuità e gli utili saranno destinati al 50% a Team e al Comune per poter essere reinvestiti sulla politica dei parcheggi. Quindi un'operazione complessa ma un'operazione straordinaria dal punto di vista amministrativo in una fase, ricordiamolo comunque, di transizione perché c'è ancora il giudizio di appello in atto. Ma noi siamo andati avanti e abbiamo deciso oggi di chiudere questa vicenda, una vicenda che Teramo e i cittadini terramani hanno pagato, hanno pagato troppo. L'area verrà ora sistemata e il piano al raso resterà adibito a parcheggio. Anche la luce delle previsioni del Pumse che individuano Piazza Dante come uno dei principali hub intermodali nel sistema della sosta. Ripartiremo anche con l'opera di riqualificazione di Piazza Dante. Non è questo il momento, oggi è il momento di gestire nel modo migliore possibile un problema che la città non ha mai gestito, nessuna amministrazione ha mai avuto la forza e la capacità di affrontare il sistema della sosta e il sistema dei parcheggi nella nostra città. Grazie. Grazie.